Saranno Potenza e Bari le ultime squadre in ordine cronologico a iniziare la stagione 2021-22 nel girone C di Serie C, esito della suddivisione oraria delle prime tre giornate di campionato comunicata dalla Lega Pro. I Lucani e i Biancorossi si sfideranno lunedì 30 agosto alle 21 al Viviani in quello che sarà il posticipo della prima giornata. Turno che invece Monopoli e Foggia avvieranno di sabato. Alle 20 e 30 del 28 agosto i Biancoverdi ospiteranno il Catania, mentre i Rossoneri di Zeman, allenatore al ritorno nella categoria 10 anni dall'ultima volta, saranno di scena a Viterbo contro il Monterosi. Domenica sera alle 20 e 30 tocca Virtus Francavilla, ospite del Catanzaro, Fidelisandria che attende la Juve Stabia, Taranto in casa contro la Turris e Picerno a Vibo Valencia. Calendario meno spezzettato nel secondo turno, coincidente con il primo weekend di settembre. Sabato 4 alle 20 e 30 in campo ci saranno la Fidelisandria, ospite del Catania, il Monopoli a Torre del Greco, la Virtus Francavilla in casa contro la Vibonese, il Taranto a Campobasso e il Picerno che attende il Catanzaro. Domenica alle 17 e 30 ecco Bari-Monterosi e Foggia-Potenza, orologi sincronizzati quasi per tutte le Pugliesi e Lucane invece nel terzo turno. Domenica 12 settembre alle 20 e 30 c'è il derby Fidelisandria-Virtus Francavilla al Dei Ulevi, stesso orario di partenza per Picerno-Bari, Monopoli-Messina e Catanzaro-Potenza. Anticiperanno invece i loro impegni al sabato il Taranto che alle 17 e 30 lo Iacovone attende il Palermo e il Foggia impegnato alle 20 e 30 contro la Turris.